E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui signori sul server Magic Mine Signori oggi è venerdì e intanto buon venerdì a tutti e come di consuetudine rieccoci qua Rientriamo sul Pryson e signori, oia ricompensa, matomi dammi le ricombenze, mi ha dato 20 gettoni Ho 548 milioni e 3000, quasi 3500 gettoni Questa mattina ho giocato con un amico mio che voleva vedere anche lui la modalità e quindi niente Siamo entrati sul server e abbiamo giocato insieme, anzi sapete che vi dico? Regia mandi la clip E guarda Tu non puoi giudicare la mia skin Innanzitutto potresti metterti qualcosa perché diciamo che vediamo un coso nudo Ma siamo nel deserto Eh ho capito però Guarda che bella quella sfinge, ti piace la sfinge? Io la adoro con la ricotta Dietro di te Ah le hanno rifatto il naso, vedi? Sì pure la barba Allora quindi lo scopo è scavare, giusto? Esatto, lo scopo è scavare Ok, ti vengo di fianco e ti scavo sopra Devi scavare, fare soldi perché dobbiamo uscire di prigione In questo momento come vedi siamo nel deserto a scavare come gli schiavi neri, no? Io infatti sono nero Oh, c'è il muro invisibile dell'universo Sto cercando di scappare Ti fotto le cose No, me lo smetto Eh vabbè mi scavo sotto i piedi Sei stato sfortunato, minchia strano, me lo scrivono pure ora Si tratta di una storia molto triste Tanto, tanto triste A cui sfortunatamente ho avuto il dispiacere di far parte C'è questo disco Che si inserisce nella PS3 Ok C'è questo gioco È Phantom Pain di Metal Gear Ovvero Metal Gear V5 Questo Metal Gear ha al suo interno delle missioni Secondarie però esterne E praticamente c'è una missione che ha il 95% di possibilità di essere fatta Tra l'altro dopo se vuoi ti faccio una bella screen Attacco la PS3 e tutto e ti faccio la screen sulla missione Ok E io giustamente con il 95% di probabilità di vincere Che fa? Non la faccio Ovvio che la faccio Cinque volte l'ho fatto Perché cinque volte? Non lo so E io cinque volte ho fallito di seguito Una missione che ha il 95% di probabilità di vincere Posso uscire che sto... Mi sono rotto i coglioni Ok In tutto ciò A me quanto serve per rancappare? Mi servirebbero 750 milioni Ne ho 550 Quindi me ne mancano altri 200 Ma sapete che vi dico? Io sono molto tentato di vendere i gettoni Ma allora Chi compra gettoni per soldi? Se vuoi ti vendo mille gettoni a un B Con questo scolobalena raga è a rank Z Andiamo allo spawn signori Anzi così vi faccio vedere pure come si vendono i gettoni Come ti passo i gettoni? Devo fare slash trasforma mille Ok Trasforma mille Weya Fatto! Slash trade Accept Sì lui qua ha messo un B Aspetta Li devo mettere a mano raga Perché mi avete detto nello scorso video Che con shift Mannaggia la zozza Non li mette le cose Ma mi sa che mille qua non ci vanno Sapete? Allora devo fare accetto il trade Ok Accettiamo il trade Devo dare gli ulteriori gettoni Ok Accettiamo Perfetto Bammete Gli abbiamo appena venduto Mille Weya Quindi se volete farmare soldi Potete utilizzare questo metodo Visto che appunto i gettoni valgono Un miliardo ogni mille token Personalmente preferisco venderli Perché per il momento non ci sono Enchant che mi interessano Anche se ne hanno aggiunti di nuovi Ci sta Toxic Avvelena chi ti colpisce Ci sta Flame Che si inserisce nel piccone E TNT Bau 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 TNT arco Che si mette sull'arco Voi lo sapete a me il pvp Non piace per nulla Mattomi Poi volevo chiedervi un'altra cosa Allora intanto volevo ricordarvi Che sabato Domani Ci sarà sempre l'evento give Nel frattempo andiamo al Facciamo il rank up Nel frattempo E se la cosa vi piace raga Stavo pensando Siamo arrancati alla vc Stavo pensando Una bella roba Ma vi piacerebbe Un video Dove Sono io a givarvi Mi hanno Scritto i founder E mi hanno chiesto Se Avevo voglia di fare un evento give Tipo al posto loro A voi piacerebbe questa cosa? Diciamo ci tengo ad avvisare i founder Che se Il give lo faccio io Vi giverò tanta di quella roba Che farò schifo E ve lo dico Diciamo faccio fallire il server Molto Vabbè raga Però dai capitemi Io sono buono Quindi Fatemi sapere se vi piacerebbe Un bel evento give Raga mi organizzo con i founder Vediamo se accettano E lo facciamo magari sabato prossimo Non domani Ma proprio sabato prossimo Alla settimana prossima Magari lo registro pure E ve lo carico Per venerdì prossimo Non lo so Vediamo Ditemi la vostra qui sotto Nei commenti Oppure lasciate un bel Mi piace sotto questi video Anzi vi devo appunto ringraziare Perché questi video Li state apprezzando tantissimo E a me questa cosa Fa un piacere Immenso Quanto mi servono Per rancappare Oh mi servono 800 milioni Signori Signori sono al warp U Cioè warp W Mamma te Ho finito tutti i soldi Guardate che figata Quel warp W U Explosive All'aspetto Andiamo al warp Grates Perché una volta che abbiamo L'explosive La usiamo Al volissimo Ma mi dai qualcosa Tipo di veramente Vabbè Dai la tag magico Che ci faccio Praticamente nulla Va bene Per rancappare Adesso ci servono 900 milioni E siccome c'ho 2000 token Vendo Altri Mille Gettoni Preferisco Rancappare Subito Squalo Ok Va bene Slash Trasforma Mille Rimettiamo Nuovamente Tutti i gettoni Qua Qui nel frattempo Si è Un B E comunque Ringrazio tantissimo Squalo Balena Che mi sta facendo Questa cortesia Che mi sta dando I B Allora Accettiamo Accetta il trade Accetta Diamo gli I 4 stack Che rimangono Accetta Ok I gettoni Me li posso Rifare sempre Ci vuole tempo Perché comunque Per fare mille token Considerate che Devi farmare Almeno un'oretta Un'oretta e mezza Però volendo ci sta Dai ti fai un B In un'oretta e mezza Volendo ci sta Allora facciamo Rank up Nuovamente Signori Siamo al warp X Cioè in questo video Raga sto Rankando Vendendo Token Qua è tutto a diamanti Ragazzi Per la prima volta Non potrete dirmi Pepo bussato Tutto quello che ho Me lo sono fatto Da solo Non me l'ha givvato Nessuno Tralasciando quei pochi soldi Che ogni tanto M'hanno givvato I player Quando m'hanno visto Ma Diciamo Quelle poche volte Che non me ne sono accorto Perché appena me ne accorgo Mi metto subito In vanish Che è una cosa Che non tollero Ecco Questa cosa Ve la voglio dire A voi che Volete givvarmi Non mi state aiutando Credetemi Se mi givvate Non mi volete bene Questa è una cosa Che ci tengo a dirvela Se volete veramente Aiutarmi Lasciatemi giocare Ok Perché se mi givvate Io arrivo subito Al rank finale E sapete che vuol dire Finiscono i video Quindi non posso più Fare video E se non posso più Fare video Non guadagno più Dalla monetizzazione Del video Capito Quindi se mi volete bene Non mi givvate Perché c'è gente Pepo ma io ti seguo Sei il mio youtuber preferito Tieni Ti voglio givare 27b No Non me li de No Quanto ci vuole per runcappare Runcappare Raga vuoi un b Pepo cosa succede Se mi parte un slash pay Non lo faccio E che succede Che ti ridò indietro i soldi Facciamo slash Trasforma Altri mille E andiamo a mettere Tutti i token Nuovamente Ok Signori abbiamo fatto Un altro b Nel frattempo Io faccio nuovamente Runcapp Runcapp Perfetto E bam E te signori Siamo arrivati alla y Tutto ciò Oggi stiamo Runcando Vendendo gettoni Andiamo al warp Y Avrei sicuramente Potuto farmi Un altro Lucky mining Però raga Preferisco Molto di più Rancare Vediamo quanto vale Un diamante Un diamante vale 1.6 Uno smeraldo 1.5 50 Andiamo al warp W Vediamo quanto vale qua Un diamante Vale 1.4 E 50 Adesso diventa comunque più Complicato rancare Il tempo ci vuole Vadovi se il tempo ci vuole Devo giocare un bel pof camera Se voglio rancare nel prossimo episodio E mi sa che Si adesso mi metto a giocare Magari per la prossima settimana Rancare e arrivare alla z Signori davvero detto ciò Io spero tantissimo che questo video di oggi vi sia piaciuto Come sempre il venerdì vi carico un video più leggero appunto dove giochiamo a minecraft E chiacchieriamo Vi ricordo che se volete giocare anche voi sul server Vi lascio l'ip qui sotto in descrizione E se il server vi piace vi ricordo che il sabato ci stanno gli eventi give Dove appunto regalano parecchia roba interessante Poi ragà al massimo provate a entrare anche oggi stesso Anche oggi che è venerdì Provate a entrare oggi pomeriggio Non so se faranno eventi Ma al massimo voi chiedete Se li fanno buon per voi Se no Vabbè va bene anche sabato Se con questi video alla fine riesco a farvi avere qualche cosina regalata dagli adwin Ma perché no Alla fine a me non cambia nulla Voi vi divertite quindi Mi va bene così Signori davvero detto ciò Noi ci vedremo come sempre ad un prossimo video Vi voglio bene E ciao ciao Il video è finito Iscriviti al canale E se te lì sei persi Guarda questi video qua Yeah E basta tutto qua Se poi hai visto anche questi due video Ci vedremo domani con un prossimo Forse E